La sottosegretaria al Ministero delle Imprese del Made in Italy, Fausta Bergamotto, qualche settimana fa, come è noto, ha incaricato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a individuare una serie di proposte da sottoporre ad Enel perché siano attuate sul piano della decarbonizzazione del sito di Cerano, con l'idea che non sia necessario né auspicabile concentrarsi su una sola azienda per riassorbire la perdita dei posti di lavoro, anche perché, accanto a questa avvertenza occupazionale, ce ne sono ancora altre irrisolte ed ataviche e anche delle nuove che nel frattempo si sono aggiunte, tra queste Versalis e le impianti dei ciclo dei rifiuti che dovrebbe rimpiegare una platea mista di disoccupati espulsi dal mondo del lavoro ormai da anni. Il sindacato Cobas, per fare il punto della situazione, ha organizzato un incontro con il primo cittadino per iniziare un percorso che porti alla definitiva risoluzione della vicenda. Se lavoriamo quotidianamente con l'azienda di 10, poi l'azienda di 15, poi un'altra azienda di 22 e così via, probabilmente riusciamo comunque a raggiungere lo stesso obiettivo di dare un contributo significativo all'occupazione senza per questo, come dire, doverci rivolgere ancora una volta, come abbiamo sempre fatto, ai grandi player che poi ogni tanto si dimenticano del territorio. Noi chiediamo investimenti, ma chiediamo anche la possibilità per i più anziani di andare in una forma di ammortizzatore sociale che li possa portare se non c'è lavoro o la pensione, perché non ci sono alternative. Quindi una serie di tirare per la giacchetta il governo e dare qualcosa finalmente alla nostra città, al nostro territorio. Questo è il nostro obiettivo e lo perseguiamo quotidianamente.